La città metropolitana di Milano ha ratificato la firma degli accordi di partenariato per il triennio 2016-2018 sottoscritti da 115 comuni dell'area metropolitana per lo sviluppo partecipato e integrato delle politiche giovanili in attuazione delle linee di indirizzo regionali per una governance delle politiche giovanili in Lombardia. L'incontro è stato anche un'occasione di confronto sulle tematiche relative alla coprogettazione partecipata in tema di politiche giovanili allo scambio di proposte e osservazioni utili a definire un documento che andrà a portare la voce della città metropolitana di Milano nel dibattito sulle nuove linee strategiche regionali in tema di giovani per il triennio 2016-2018. Beh diciamo che oggi città metropolitana credo faccia il suo mestiere cioè promuove delle esperienze di partecipazione fra i comuni rispettando l'individualità dei comuni ma riuscendo a far sì che l'unione faccia la forza quindi oggi andiamo a sottoscrivere dieci accordi sulla base dei distretti e degli ambiti di attività sulle politiche giovanili che serviranno ai comuni per non sentirsi da soli su questa tematica. Sì, osservatorio giovani collabora con città metropolitana, ancora prima con provincia di Milano da più di dieci anni e nel corso di questo tempo ha aiutato da una parte a leggere e analizzare la situazione giovanile dall'altra a essere presente sia come formazione del personale dell'ente sia all'interno dei territori a supportare la progettazione e gli interventi sul territorio. Grazie a tutti.